Allora siamo il 20 gennaio 2011, siamo al circolo di Via d'Albono, il quarto circolo di Via d'Albono. Come possiamo vedere dall'immagine l'immondizia, la schifezza che sta qua, praticamente che da giorni non viene pulito. Allora ti prendi qua le città, avanza, avanza, avanza. Guardiamo l'erba che uscita ai muri, ti prendi pure l'energia, vieni vieni cammina con me. Allora possiamo notare caro sindaco come le condizioni di Via d'Albono, ripeto che sono 4-5 giorni che non viene pulito, come si trova questo quarto circolo, la scuola elementare. Avanza, avanza di là. Allora lo notiamo, sindaco, diciamo e commentiamo lo stato praticamente di come si trova questa scuola. cammina di così, riprendi così. Stiamo riprendendo? Un attimo. Allora caro sindaco, ripeto anche all'assessore Mosca di intervenire questo video sarà passato direttamente a lei con una lettera ufficiale. riprendi qua, riprendi qua, riprendi qua, riprendi qua, questi tubi fuori. Vedi qua, se un bambino cade qua si fa male pure. Possiamo notare l'immondizia, riprendi pure là. ecco, riprendi tu l'entrata, spostati così, là, ok, riprendi solo la scuola, no, 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 riprendi di là, vieni, vieni, vieni. Allora riprendi anche qua, riprendi pure questa cosa qua, ok, andiamo ancora avanti, riprendi tutta l'immondizia. ecco qua, riprendi pure qua, pure questi sacchetti qua, tutto qua, un po' di tutto ce l'abbiamo. ok, riprendi pure qua, allora ripeto il quarto circolo di via d'Albono, ricordo le condizioni in cui si trova praticamente il cancello, guardiamo anche il cancello in condizioni in cui si trova. riprendi anche qua, riprendi anche l'immondizia qua, riprendi anche l'immondizia qua, vieni. ripeto, questa è l'immondizia che sta da giorni, ripeto, 20 gennaio 2011, sto qua con dei genitori, con questo video, ho finito caro sindaco, alla prossima. Volevo far vedere qual è qua, questi pezzi.